I volontari Ilaria, Valentina, Maria Francesca, Chiara e Davide del Centro Studi Futura Progetto Franco Basaglia hanno preso parte della diretta organizzata il 4 febbraio 2021 dell'ente nazionale Napaica dal titolo Fondi dell'Unione Europea, il nuovo settennato 2021-2027, un'opportunità per tutti. L'incontro è stato moderato da Gheide Pallo, responsabile comunicazione dell'Associazione Italiana Coltivatori. Ha visto partecipare Giuseppino Santogliani, presidente dell'Associazione Italiana Coltivatori e presidente Napaica, Carmelo Colterlaro, segretario generale Napaica e Sabrina Crosta, responsabile dell'area tecnica. Gli interventi hanno riguardato principalmente i fondi dell'Unione Europea, le opportunità che essi rappresentano e hanno evidenziato come la programmazione del nuovo settennato 2021-2027 sia un'opportunità soprattutto negli anni del post-Covid e che deve essere sfruttato attraverso il miglioramento delle capacità progettuali. Infine, si è focalizzato sulla vastità dei bandi disponibili e su alcuni bandi in particolari. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare le pagine di Facebook Napaica e dell'Associazione Coltivatori. Grazie per l'attenzione!